Sonic Reveggia, il suo ultimo disco è questo qua, l'applauso di Sonic Reveggia. E naturalmente questo lo sentiamo al nostro amico Mauro Sardino, che sarebbe qui con noi questa sera, ma si sta guardando da zero, Mauro che ha suonato questo disco con il senso e l'ultimo per lui in questo inizio, i Sonic Reveggia! La deduzza è stata sconfitta, gli abbiamo taccato la festa! La festa della fortuna! La festa della fortuna!